Scusami se ti ho dato appuntamento qui dentro, ma mia moglie ha insistito per accompagnarmi. Beh, l'importante è che passeremo le feste insieme. Tu! Tu! No! Falla uscire, dai! Aspetta, aspetta, aspetta! Mi punge! È andata dietro! Eccola, eccola, eccola! Dai, esci, eccola! No! Fa uscire la pappattaccia! Vievati, vievati! Vievati, vievati, vievati! La macchina, Luigi! Sta andata la macchina, aiuto! I pantaloni, i pantaloni, i pantaloni! Ma che te frega dei pantaloni, non ce lo faccio da sola! La macchina, la macchina! La macchina! Ecco, i pantaloni! Aiuto! No! Questa sera l'appuntamento più atteso. L'elezione di Miss Costa 2008. La procedura è semplicissima. Poi lo sistemi meglio, eh? Ok, allora, amore. Vai a scusarti con quei signore con cui dovevamo cenare. Prego? Scusi, lo l'ho afferrato. Che cosa dovrei smittere di? Ma no, ma che è meglio! Ma va, 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 te lo struzzo! No, sto deficiente! Sto vecchio rincogliolito! Ma io ce l'ho provato, ce l'ho provato! Ma non ce si può parlare! Non ce l'ha mai... È una bestia, un troglonita! Ma come? Io, 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 scusaci per me! E' un po' di... 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 Cosa c'è? Sei preoccupista? No, lui è in vacanza con me. Allora me hai preso per il culo un'altra volta! Giù! Amore, non farti travolgere da una reazione mutiva, ma cerchiamo di ragionare! Magda, perdonami! Disculpame! Disculpame, Magda! Che di vernice! Magda, perdonami! Porché si lasse la puerta? Sai, vederli così innamorati, così appassionati, mi ha fatto venire voglia. Facciamo l'amore. Chi? Come chi? Io e te! Chi? 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 Grazie a tutti